Queste sono le promesse dell'ASD San Donato Golf di Santi di Preturo, bellissimi ragazzi, giovani e pimpanti che non giocano a calcio. È una cosa strana, è una cosa strana. Leonardo, Fabio e Mario, tutti e tre golfisti. Domanda d'obbligo? Come ci arriva il golf? Mamma, papà, qualche amico? Io sono arrivato al golf abitando qui, quindi diciamo che è stata quasi una cosa obbligata, però alla fine si è arrivato allo sport che amo e quindi continuerò a farlo. Quindi una deformazione da territorio, possiamo chiamarla così. Ma non c'erano campi di pallone o altre cose? C'erano, però il golf mi sembrava molto più appassionante. Allora chiedo anche a te Fabio, la stessa cosa. Io grazie a mio padre che mi ha portato le prime volte in campo pratica. Quindi c'è l'imprimatur di papà che dice, ma voleva, cioè hai insistito o poi è piaciuto a te? No, è piaciuto a me, mi sono affezionato, piano piano ho preso l'endica, affettuto e mi sono sempre il più divertito e quindi ora sono qui diciamo. Anche per Mario la stessa cosa? Sì, per me anche a livello familiare è stata un'ottima sorpresa anche perché ho iniziato giocando a calcio. Ecco, tu hai lasciato il pallone, facevi l'esterno per caso? Io giocavo in difesa. Ah, tu eri un difensore, quindi hai lasciato per il golf. Ho lasciato per il golf e è stata anche per me una sorpresa a livello personale, però poi alla fine si è rivelata una grande passione e anche a livello personale sono cresciuto molto grazie a questo sport. Ma voi siete cresciuti, insomma lo dicono anche i numeri, sempre su il podio, avete fatto questa bella esperienza a Firenze che penso che vi ha arricchito parecchio. Sì, ci ha arricchito parecchio, è stata una grandissima esperienza, ringrazio il capitano e l'altro mio compagno di squadra che sono stati fondamentali. Siamo divertiti, abbiamo portato con onore la nostra maglia del San Donato e sicuramente riproveremo l'anno prossimo a qualificarsi. Siete giovani ragazzi, vostri amici, le vostre comitive, la domanda è ricorrente, ma che palle il golf? È chiaro, no? Che palle il golf e che cosa rispondete? Che non è palloso e bisogna venire a provare perché molte volte l'apparenza inganna. E certo. Tutti gli amici che ho fatto provare il golf gli è subito piaciuto. Ah, quindi tutti, quanti ne hai arruolati? Eh, una decina, bene male. Una decina, dai. In tutti questi anni a tutti è piaciuto e tutti mi richiedono sempre di tornare. Di tornare, stessa cosa a te, sei riuscito a trascinare qualche attaccante della squadra? No. Purtroppo molti amici no, però sicuramente la domanda è molto importante e rispondo con, bisogna provare le cose prima di dirlo, come ha detto Fabio. Sì, come ho detto, però quando ti dicono, oddio però, sta cosa con la pallina, a Tirana, cosa da pecchi, Dubai. È l'apparenza, è l'apparenza tante volte che fa questo effetto e anche provandolo, io dico sinceramente che ho riscontrato anche feedback negativi, diciamo, per la monotonia di questo sport, almeno considerata da loro. Eh, è certo. Però per me non è tutt'altro che monota. Quindi avete anche la possibilità di andare a gareggiare fuori con i vostri coetane, insomma, sempre una bella, una bella esperienza. Non avete forzature da parte delle famiglie perché se a un certo punto vi rompete le scatole, finite e basta. Distrazioni femminili in tutto questo? Capitano, devo dire che capitano. Eh, voglio dire, certo. Eh, voglio dire, poi si lascia per la distrazione femminile. Assolutamente, però diciamo che uno mantiene il focus sull'obiettivo. Bravo, lui il focus, l'obiettivo, è molto tecnico. E che c'è in ballo per i prossimi mesi? Cioè la stagione come va avanti adesso? I prossimi mesi ci sono le ultime gare nazionali e poi verso dicembre, che si chiude l'anno col fistio, diciamo, si rinizia la preparazione per poi riniziare a marzo, febbraio-marzo con le gare nazionali. Allora, per concludere, messaggio a chi ci sta ascoltando, ai vostri coetanei per venire a giocare, un motivo per giocare a golf? Crescita personale, anche a livello sportivo, è uno sport dove devi conoscere molto te stesso e sicuramente importante. Fabio? Io sono d'accordo con quello che ha detto lui e in più è un motivo anche di crescita mentale e caratteriale dei ragazzi, perché è uno sport nel quale giochi da solo e quindi, diciamo, sfidi te stesso e ogni volta devi fare meglio. Un po' come il tennis, ci aggiungo io, lo so che non c'entra in niente. Leonardo? E diciamo, il messaggio è più o meno lo stesso loro, perché è uno sport che mette in competizione con te stesso e non con gli altri, a differenza degli altri sport. E quindi, niente, è più tanto una crescita personale che sportiva. Allora, tanti auguri, ragazzi, ciao! Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.